Buongiorno, buon sabato 2 di giugno, ben trovati a mattino 6 in questa giornata di festa che coincide anche con la partenza del nuovo governo, dunque una festa della Repubblica che si celebra nel migliore dei modi. Andiamo subito a vedere le prime pagine dei quotidiani, partendo da quelli regionali, già vedete alle mie spalle il centro, nella edizione di Pescara, il titolo di apertura riguarda proprio il capoluogo adriatico, la riviera diventerà pedonale, riaperto il lungomare nord, il comune in futuro, la chiusura al traffico, poi come vi ho anticipato in apertura di programma c'è ampio spazio al governo giallo-verde, Di Maio Salvini parte il governo, Gentiloni lascia Conte, Berlusconi all'opposizione, il PD va in piazza. I primi effetti, in Abruzzo la Lega accoglie altri 12 amministratori, sempre per quanto riguarda la politica. Altre notizie del taglio alto, l'ambientalista e il riscatto di Damiani, prosciolto dal caso Eni e poi Abruzzo la sentenza, guardie mediche vinte la battaglia delle indennità. Andiamo a vedere adesso nel taglio centrale, di spalla nelle cronache, ha preso a calci e pugni i vigili, subito scarcerato in attesa di essere processato. Leggiamo ancora nello stralcio dell'articolo il parcheggiatore abusivo di 28 anni che giovedì ha aggredito due vigili urbani nell'area di risulta perché hanno tentato di allontanarlo perché molesto. Dopo aver preso a calci l'auto della municipale e aver tirato calci e pugni a due agenti, il 28enne Ivoriano è stato bloccato e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Finito in cella per un pugno di ore, ma ieri mattina dopo la convalidata dell'arresto, il giudice ha disposto che tornasse in libertà. Altra notizia da Montesilvano, parcheggi sulla riviera, aprite la Stella Maris, questa la richiesta. E poi a Francavilla al mare scatta l'emergenza furti negli stabilimenti balneari. Andiamo a centropagina adesso il Pefest 2018, jazz, circo e teatro nell'estate di Pescara. Ancora nello spazio da leggere, guida facile, lavori in casa e acquisti, ecco tutti i vantaggi. E poi il K.O. Azzurro nell'amichevole di ieri con la Francia, i tagli in campo per far allenare la Francia. Partita che finisce 3-1. Nel taglio basso, il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, resti di Pompei e ultime parole famose. Questo è il titolo della riflessione odierna. Andiamo avanti sempre sul quotidiano Il Centro. Adesso andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione Teramana. Il titolo di apertura, via il recupero dell'ex manicomio. Pubblicato il bando da 30 milioni sarà la futura sede del Dams. Andiamo a vedere, nello spazio delle cronache, la gara è andata deserta. Palasca senza gestore, Teramo Basket a rischio. Il Palasca Priano si ritrova senza un gestore. Il Teramo Basket rischia di non avere un campo per il prossimo campionato. L'effetto domino, scrive il centro, indescato dall'ennesimo buco nell'acqua nella procedura per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo. La gara d'appalto, bandita dal Comune per assegnare la struttura a una società che se ne facesse carico per i prossimi 10 anni, con possibilità di rinnovare la convenzione per i successivi 10, è andato deserto per i costi di gestione giudicati eccessivi. Andiamo avanti a Giulianova. Fermo il regolamento per i Deor ed è scontro. Ancora Roseto e Pineto di nuovo in funzione, i parcheggi a pagamento. A centro pagina la food blogger Teramana di Sabatino, dalla laurea alla Bocconi, alla cucina in tv. Vedete una foto della trasmissione, detto fatto, della RAI. E ancora andiamo avanti sempre sul quotidiano il centro. Andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione teatina del quotidiano abruzzese. In apertura ZTL, le multe diventano un caso. A Chieti il giudice ne annulla 12, ma la sentenza non preoccupa il Comune. Ancora nelle cronache a Tessa, i russi ufficializzano l'offerta per Honeywell. Prende corpo l'intenzione di fare dell'ormai ex Honeywell una fabbrica per la realizzazione di autobus elettrici. E' pronta ad investire nella reindustrializzazione dell'ex fabbrica di turbocompressori, la Inconex Com, multinazionale del Kazakistan, operante nel settore petrolifero e grandi opere civili, i cui rappresentanti avevano già visitato lo stabilimento di Atessa. Nel marzo scorso la proposta è stata concretizzata nei giorni scorsi a Roma, nel corso dell'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico. Le altre notizie, Francavilla al Mare, stabilimenti balneari, danni ingenti per i furti e poi vasto, gare di moto tra i tavolini di bar e ristoranti in centro. Nella fotonotizia, Lanciano, il giudice assolve gli operai Anas, cadono per una buca, la colpa è dei ciclisti. Proseguiamo sempre sul quotidiano Il Centro, l'ultima delle quattro prime pagine provinciali, quella aquilana. Uffici regionali, nuovo scontro, il titolo di apertura, la CGL accusa, scippo già in atto, D'Alfonso risponde che non è vero. Proseguiamo con le cronache, l'Aquila a bilancio con tante ombre, l'opposizione all'attacco, l'avanzo di amministrazione dai 54 milioni di euro, sbandierato dall'assessore comunale al bilancio Anlisa Di Stefano e gonfiato perché costruito su crediti inesigibili ed ignota provenienza. da affermarlo sono i consiglieri di opposizione Giustino Masciocco di articolo 1 MDP, Angelo Mancini di L'Aquila Sicurezza Lavoro che hanno evidenziato alcune presunte anomalie presenti nel bilancio consultivo che è stato approvato mercoledì scorso dal Consiglio Comunale dell'Aquila. Scendiamo, andiamo ad Avezzano, aulo e sicure per 400 bimbi, un milione al comune, poi sul Mona due borse di studio in memoria di Fabrizia. A centropagina, nella fotografia sul Mona la giostra dei piccoli, cordesca sfilata in abiti d'epoca e prime gare. Cambiamo testata adesso, andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto abruzzo del messaggero, in apertura ufficio a Pescara ed è rivolta sulla riorganizzazione delle direzioni dell'ente regione e durissimi attacchi bipartisan. Insorgono il centrodestra Aquilano e la CGL, il direttore generale Rivera dice, nessuno scippo. E poi il 2 giugno a Chieti è polemica tra Di Primio e Lampi, scontro sull'intitolazione di Piazza Umberto I alla Repubblica. La proposta nel giorno della festa del 2 giugno arriva dall'Ampi, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Chieti è uno dei pochi capoluoghi che non ha dedicato una piazza, un largo, una via alla Repubblica, scrive il presidente della sezione teatina, Filippo Paziente. Inaccettabile il perdurare di questa omissione, dice ancora, ma il sindaco Di Primio dice no all'iniziativa, è giusto intitolare una piazza alla Repubblica, ma questa non può essere Piazza Umberto I perché la storia non va cancellata. Questa è la posizione del sindaco. Andiamo a vedere nella fotografia i nuovi scenari politici. Salvini il 6 giugno sarà in Abruzzo. Il ministro dell'Interno dunque farà visita alla nostra regione, a Silvi e Teramo, per quanto riguarda la chiusura della campagna elettorale nei due comuni in cui si vota per il rinnovo delle amministrazioni comunali. Ancora la fabbrica dei certificati falsi, altro blitz nello studio di Gallese ad Avezzano, la finanza a caccia di riscontri a casa del primario di igiene mentale. dunque nuovo blitz della Guardia di Finanza a casa del primario del centro di igiene mentale Angelo Gallese che si trova nel carcere di Pescara da una decina di giorni, ricorderete, il blitz che riguarda i falsi certificati. E poi Pescara, in municipio, poteva scapparci il morto, rischia un procedimento disciplinare. Il maresciallo della Polizia Municipale, responsabile del colpo di pistola, sparato a quanto pare per errore lunedì pomeriggio a Palazzo di Città. Andiamo a vedere adesso di spalla il masterplan. L'ex manicomio di Teramo torna a nuova vita. Ieri firmato l'accordo, sarà restituita alla città la struttura da 11.000 m2, ora in disuso. Nel taglio basso, il Gran Sasso, l'acqua non è ancora sicura. Nel giorno in cui si attendono ancora i risultati delle analisi dell'acqua di Casemolino, che ha causato diversi malori tra alcuni lievi e quelli più importanti, ritorna in primo piano l'acqua del Gran Sasso. A stilare un primo bilancio ad un anno dallo sversamento del Toluene sulle condutture della Ruzzo e a due dal di clorometano, è Augusto De Santis, esponente del Forum dell'Acqua, che traccia un quadro di sostanziale inerza e dice che l'acqua non è ancora sicura. Andiamo nel taglio alto per le altre notizie. Pescara ha grandi nomi e tante novità nel cartellone per l'estate degli eventi. E poi, Serie B Sansovini, vorrei chiudere la carriera con il Pescara. E per la MotoGP, Annonevola al Mugello, mai divorzio con la Suzuki. Andiamo a vedere anche la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo, aggredita in centro da un maniaco, giovane donna avvicinata in piena notte da un uomo che le ha mostrato le parti intime. Nel taglio alto l'acqua del Gran Sasso, altri incidenti non segnalati nei laboratori, scrive la città. E poi, a centro pagina, ritroviamo il master plan con il bando per il progetto di recupero. Manicomio si parte, il titolo sulla fotografia della firma dell'accordo con Luciano D'Alfonso, presidente della giunta regionale, e Luciano D'Aminico, rettore dell'Università di Teramo. Ancora, rimpasto nella giunta di Castellalto, entrano Di Lodovico e Picone, escono sacco mandiettini sotto la fotografia. Andiamo di spalla, Sandro Mariani al ballottaggio, è meglio non accordarsi. E poi, la politica ancora, Chiodi strizza l'occhio al fronte repubblicano. E poi Giulianova, rivolta contro la resina degli alberi. Andiamo nel taglio basso della prima pagina, strisce blu, multe pazze per disabili rosetane. Ancora la serie C, Teramo, addio a Modica, virata su Luca D'Angelo. Questa è anche la prima pagina della città che chiude lo spazio dedicato ai titoli regionali. Andiamo adesso a vedere i principali quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera. Il titolo di apertura, eccolo qui, si inizia da Migranti e Lavoro. Chiaramente si parla dell'avvio del governo Lega 5 Stelle, Passaggio di consegne a Palazzo Chigi, il ministro Fontana, difendo la famiglia naturale, quelle gay, per legge non esistono più nascite e meno aborti. Così si presenta Fontana. E poi ha giurato il governo Conte, Salvini e Di Maio annunciano le prime misure, Mattarella dice, le istituzioni sono salde. C'è la riflessione di Angelo Panebianco, un'alleanza conflittuale, secondo l'editorialista del Corriere. Andiamo a vedere le altre notizie. La Spagna, il ritorno dei socialisti, Sanchez Premier, la svolta sfiduciato l'esecutivo di Mariano Rajoy. Andiamo avanti. Sulla Repubblica, il titolo di apertura all'Italia, Salvini e Di Maio. Conte entra a Palazzo Chigi, due vicepremier, dettano gli obiettivi migranti, meno arrivi e più espulsioni, leader dei Cinque Stelle al lavoro per creare lavoro. Tria, non vogliamo uscire dall'euro, applausi a Gentiloni che lascia. L'editoriale di Mario Calabresi, Allacciate le cinture, titolo abbastanza eloquente. Proseguiamo con il sole 24 ore, andiamo a vedere il principale quotidiano economico-finanziario con i riflessi in borsa del Governo. Il titolo di apertura, chiaramente, al via del Governo Conte, fiducia sul contratto, Mattarella, istituzioni salde, prime misure su pensioni, immigrati e delocalizzazione. L'esecutivo giura martedì il voto al Senato e il Premier. Non siamo marziani e lo dimostreremo. Come detto, ci sono anche i mercati che reagiscono alla formazione del Governo in Italia. I mercati aprono all'esecutivo. Piazza Affari più 1,49%, spread che scende a 233 punti base dal voto virtualmente perso ad un miliardo al giorno. Questo per quanto riguarda i mercati. Poi c'è lo spazio dedicato ad FCA. L'ultimo piano di Marchionne, debito azzerato, missione compiuta. Il CAN, l'auto, resta l'attivo più grande della Exor, che è la holding che controlla Fiat Chrysler. Per ritorno al dividendo, l'addio al diesel nel 2021. Questo è il panorama tracciato da Marchionne. Proseguiamo con il Fatto Quotidiano. Anche qui in apertura c'è il Governo. Il Governo conteggiura, Salvini s'allarga, il PD grida al fascismo. L'89esimo giorno, cerimonia al Colle, sorrisi, anche Mattarella Savona. Applausi in piazza. Questo per quanto riguarda la formazione del Governo. E poi ancora, centropagina 30, il conflitto sui contractor comunicazioni. La prima gara. Ministri e compagni sulla delega alle telecomunicazioni, cara Berlusconi, la Lega ci prova con Di Maio. Andiamo sulla stampa. Il titolo di apertura del quotidiano torinese nel Governo giallo-verde, meno fondi per i migranti e un piano per il Sud. Conte, non chiamateci populisti, Mattarella dice, le istituzioni sono salde. Questo per quanto riguarda i primi passi dopo il giuramento di ieri. Andiamo sul manifesto. Il titolo di apertura del quotidiano comunista, di Ruspa e di Governo. questa è la lettura che dà il manifesto. Il Governo Conte si insedia a Palazzo Chigi, ma Salvini ruba la scena a tutti. Il neoministro dell'interno in permanente campagna elettorale si scaglia contro i migranti e annuncia tagli ai fondi per l'accoglienza. La preoccupazione di Mattarella, che scrive ai prefetti, fermare il rischio di regressione civile. E poi troviamo anche qui la Spagna. L'incarico è subito di Sanchez, il nuovo governo, verso il monocolore socialista dopo che il governo Racoi è stato spazzato via da uno scandalo di appalti e tangenti. Andiamo sul messaggero. Anche qui il titolo è sulla formazione del nuovo governo. Migranti e lavoro, prime mosse. Il governo Lega 5 Stelle ha giurato al Quirinale Conte, non siamo marziani, lo dimostreremo. Salvini, taglio di 5 miliardi per l'accoglienza. Di Maio parte dal reddito. Tria, non usciamo dall'euro. Poi c'è l'editoriale del direttore Virman Cusenza. Avviso ai naviganti. Cambiamento. Proseguiamo con il quotidiano e il tempo. Restiamo sempre ai giornali romani. Per chi suona la campanella e il titolo via il governo, Conte giura e riceve il campanello dal predecessore. L'esecutivo giallo-verde è entrato finalmente in carica. Buon lavoro. Pronti via una legge per la trasparenza della casta, dei sindacati. E dunque, questo è il titolo del tempo. Andiamo su Libero. La festa del 2 giugno è morta, scrive il quotidiano diretto da Vittorio Felti. Il funerale della Repubblica. Fatto il governo, tutti brindano al Quirinale. Oggi parate solenni in onore di istituzioni rovinate dalla crisi politica più lunga della nostra storia. Se un italiano su tre vota Movimento 5 Stelle significa che i cittadini sono messi molto male. Non ci va certamente leggero, libero. Poi l'editoriale di Vittorio Felti. Mattarella, alla fine, unico vincitore. Questa la lettura di Felti. E poi Pietro Senaldi scrive soltanto Salvini può salvarci dai 5 Stelle. A centropagina la Fiat. Marchionne a zero i debiti e va. In 14 anni ha risanato la Fiat e l'ha rilanciata nel mondo. Alla faccia dei sindacati, il più grande manager italiano festeggia mettendosi la cravatta. Andiamo sulla verità. È nato l'esecutivo 5 Stelle Lega. Tutti gli scogli del governo Conte, il neopremiere e i suoi hanno giurato. Ha fatto il primo consiglio dei ministri. Il professore saprà comandare senza truppe in aula? Si chiede la verità. Su sanità, lavoro e infrastrutture, i dubbi più grandi. Alla Lega il compito di dare segnali sulla sicurezza ma è sull'economia che tireremo le somme. Siamo in attesa di vederle all'opera. Se faranno un decimo di quanto promesso avranno cambiato il paese. Proseguiamo con il secolo d'Italia. Anche qui il titolo con una sola parola cambiamento che poi è lo slogan che ci ha accompagnato in queste settimane di convulsa formazione di questo governo. Centro-destra ora è diviso e un altro cambiamento nel primo piano. E poi finalmente il salvi maio. Ecco le loro prime mosse. Flat tax, reddito di cittadinanza, ma anche pensioni e lavoro. E ancora sinistra e anti-italiana. Chiang chiede aiuto alla Unione Europea. Andiamo su avvenire. Il quotidiano cattolico scrive in apertura subito i dossier scottanti. L'esecutivo giallo-verde di Conte giura al Quirinale. Poi il passaggio di consegne con Gentiloni. Da Bruxelles e dalle capitali aperture di credito festeggiano per ora anche i mercati. Mattarella intanto chiede unità. Tria rassicura sull'euro. Salvini, i migranti costano. Tagli alla accoglienza. L'editoriale di Vittorio Parsi. Il governo è l'Europa più giusta. L'interesse internazionale. Questo è il titolo dell'editoriale. Andiamo a centro pagina. Ostia aspetta il Papa. Costruiamo il bene reportage dal quartiere finito alla ribalta per i clan. Andiamo sul mattino di Napoli. Anche qui titolo di apertura sul governo. Le prime mosse. Salvini, tagli sui migranti. Il leader della Lega. I 5 miliardi di spesa sono troppi. Intesa con la Chiesa. Di Maio subito il reddito di cittadinanza. Tria. Nessuno vuole uscire dall'euro. Questa la rassicurazione. L'editoriale. Il coraggio dei moderati. Scrive Alessandro Barbano. Ancora la cronaca invece. Stuprata a 11 anni. Scusate. Arrestati tre minori. Figli di Camorra. Castellammare. Ricatto con i film in chat. Il blitz nel fortino del clan. D'Alessandro. Questa la notizia di cronaca. Andiamo sul secolo XIX. Il quotidiano genovese. Apre con il governo. Parte dalla Fornero. Il giuramento al Quirinale. Mattarella. Istituzioni salde. La borsa risale. Salvini. Tagli su aiuto ai migranti. Tria. Non si esce dall'euro. Conte. Il premier. Non siamo né marziani né populisti. Il PD scende in piazza. Questo è il sunto della giornata politica. E poi un approfondimento. Liguria senza ministri. E per le amministrative non si scalda l'asse Lega 5 Stelle. Toninelli. Verifica per le grandi opere. Vanno studiate e analizzate tutte. Totti. Il governatore della Liguria. Dice. Non mi fa paura. Bucci. Continua. Lo voglio incontrare. Andiamo a vedere adesso i principali quotidiani sportivi italiani. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. In apertura c'è la gara di ieri fra Francia e Italia. L'amichevole Italia. La strada è lunga. Troppa Francia. Mancini dice. C'è differenza. Annizza. Azzurri battuti. 3 a 1 da una nazionale già pronta per la Russia. Restiamo in partita per un'ora con un gol di Bonucci. Segnali di crescita. Balotelli si conferma. Chiesa è il migliore. Ma abbiamo tanto da fare. Certamente il divario ieri sera è stato abbastanza evidente. Andiamo nel taglio alto. Skriniar. Inter. Io firmerei a vita. Difesa 3 in vista. La novità con De Vrij e Miranda. E poi Milan. Mister Livers. Altri 10 milioni. E in segue Falcao. Il fondo Elliot resta alla finestra. Nel caso i rossoneri. Tra scadenze e necessità di mercato. Poi grandi nomi in orbita. Juventus. Il Cannes. Iguain e Milinkovic dopo il mondiale. Il presidente Exor non esclude. Né che parte il Pipita. Né il possibile arrivo del Laziale. Perin è più vicino. Poi ancora. De Laurentiis compra. Il Napoli vede Verdi e riacquista. Amsic. L'attaccante va verso il SIE. Al Bologna 25 milioni. Marek Amsic dice siamo più forti. Con Ancelotti. Andiamo a vedere adesso il Corriere dello Sport. Anche qui ritroviamo nel taglio alto l'Italia. Santa pazienza scrive il Corriere. La Francia è squadra da mondiale. Vince 3 a 1. Mancini è puntato su molti debuttanti. Tra cui anche l'ex Pescara Mandragora a centrocampo. Poi esclusivo. Zazzaroni intervista De Laurentiis. Il Napoli che verrà. Lui è Sarri. Lui è Ancelotti. Giorginio è bloccato. Verdi già preso. Amsic. La Cina ci regala solo titoli. Aurelio. Che cinema. Chiaramente si parla. del Presidente del Napoli. Andiamo di spalla per il New York Times. Milan. Devi scordarti l'Europa. Il quotidiano statunitense cita fonti della UEFA. Decisione presa. Intanto Fassone annuncia in arrivo i 10 milioni di lì. E poi il MotoGP al Mugello. Pirro da paura. Vola fuori dalla motocicletta a 360 km orari. Blocco alla ruota anteriore e Ducati impazzita. Michele ricoverato. Voglio correre, dice oggi la Pol per quanto riguarda la MotoGP. Andiamo a vedere anche i titoli di TuttoSport. Italia KO a testa alta secondo TuttoSport. Il futuro in chiesa. Nizza vince la Francia 3 a 1 ma gli azzurri reggono il confronto. Anche con una squadra semisperimentale. Grande prova dell'attaccante Viola che può diventare un cardine di questa nazionale. Andiamo nel taglio alto. Un affare in piazza. La Juve pronta a giocare la carta del talento croato per convincere Lotito a cedere Milinkovic. Milinkovic, Savic di spalla. Ndong vicino ai Granata. Roma su Baselli. Il Toro vuole Juan Cesus ancora al Bologna. 25 milioni. Napoli c'è Verdi per Ancelotti. E poi c'è anche l'editoriale di Xavier Jacobelli. Giù le mani dal Milan. sulle voci di una esclusione dalla Europa League. Andiamo a vedere anche il taglio basso con il moto mondiale. Paura al Mugello. Oggi c'è la Paul. Paura per l'incidente occorso alla Ducati. E poi c'è Chinato Show. E Parigi applaude tennis per quanto riguarda il Roland Garros. E poi c'è anche un focus sulle parole di Marchionne. Il gruppo FCA mai così in alto. Chiaramente riguarda anche la Juve e il futuro del gruppo e della finanziaria Exor che controlla anche la Juventus. Adesso ci fermiamo per il break pubblicitario. E poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna. Prima però le previsioni del tempo. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo alle notizie dalla nostra regione. Andiamo ad aprire le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Sulla pagina Abruzzo del messaggero i nuovi scenari. Campagna acquisti. Scrive il messaggero da parte della Lega che ora punta alla regione. Salvini atteso a Silvi e a Teramo il 6 giugno per la campagna elettorale. Giuliante. Tante richieste di adesione ma non stiamo facendo entrare tutti. Tra gli ingressi c'è anche quello di Armando Foschi per quanto riguarda la città di Pescara. Ma sono tante le persone. Anche Vincenzo Dincecco che è il consigliere comunale sempre di Pescara. Aurelio Cigli e Stefano Di Blasio. E tanti altri ingressi. Andiamo a vedere le altre notizie. L'Abruzzo non riesce a creare occupazione, dice Stefano Cianciotta. Dall'analisi dei dati Istat la vera sfida è rendere possibile la permanenza delle imprese. E poi ancora ad Alfonso il Governo continui ad aiutarci. Questo in qualche maniera all'appello del Presidente della Regione che è stato eletto al Senato nelle scorse elezioni. Che è stato interpellato a margine di una conferenza stampa a Pescara. Ora, tra poco vedremo tutto nel servizio. Andiamo nella pagina di, nei servizi anzi, andiamo nella pagina di primo piano del centro. Il nuovo Governo e gli effetti sulla nostra Regione. La Lega in Abruzzo fa acquisti. 12 sono gli ingressi. Tra i volti nuovi anche Vincenzo Dincecco, come ha detto Armando Foschi. Il 6 giugno il Ministro Matteo Salvini sarà a Silvi e Teramo. Andiamo a vedere il servizio sulla conferenza stampa tenuta ieri dalla Lega, che ha anche annunciato una raccolta firme per chiedere l'elezione diretta del Capo dello Stato. Vediamo. Il Governo della Lega e del 5 Stelle è già al lavoro da poche ore, ma in Abruzzo la Lega lavora da parecchio. Oggi presentate nuovi ingressi nel partito e anche questa iniziativa nazionale della raccolta di firme per l'elezione diretta del Capo dello Stato. Lavoriamo da 4 anni a questo progetto. Il nostro leader Matteo Salvini ha compiuto una impresa straordinaria portando la Lega al governo. Ricordiamo che soltanto 5 anni fa la Lega era al 3%. Adesso è una realtà di governo importantissima, così come spero diventi una realtà di governo altrettanto importante nella nostra regione. Sabato e domenica, domani dopo domani abbiamo 40 gazebo in tutto l'Abruzzo. Seconda tranche di tesseramento, già i primi 1000 tesserati sono stati registrati, contiamo ai 2000 tesserati in tutto l'Abruzzo. Ci sarà la raccolta delle firme per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Chiaramente la conferenza stampa di oggi verte su questi due temi, oltre anche a presentare la visita, speriamo confermata, per mercoledì a Silvia Alterma del nuovo Ministro dell'Interno, nonché segretario federale della Lega Matteo Salvini. Stiamo parlando del rafforzamento della Lega nella nostra regione. Possiamo dire che inizia anche la campagna elettorale per le regionali in Abruzzo? Sì, è chiaro che le persone che presentiamo oggi, gli amministratori e comunque persone della società civile che hanno aderito al nostro movimento, sono tutte persone che già da tempo collaborano con il nostro partito in Abruzzo. E' chiaro che questa non è una campagna acquisti, ma è un rafforzamento del nostro movimento sul territorio, anche in funzione di quello che io considero la sfida più importante per quanto riguarda il movimento della nostra regione, cioè le prossime regionali. E con la formazione del nuovo governo si scioglie anche il nodo della regione, che riguarda appunto il Presidente della Giunta D'Alfonso. Il centro scrive il governatore verso l'addio alla regione e D'Alfonso sta per lasciare dai voti al nuovo esecutivo. Come detto ieri a margine della conferenza stampa che riguarda il progetto di recupero dell'ex manicomio di Teramo, che vedremo più avanti, D'Alfonso è stato interpellato proprio su questo punto. Andiamo ad ascoltare l'intervista. Presidente, ieri ha visto la luce il nuovo governo, a questo punto lei opterà per il Senato? Beh, l'ho precisato in tutte le lingue e sto studiando anche l'ebraico antico, per precisarlo. Quando arriveranno le dimissioni? Non appena si definisce la mia natura giuridica di senatore, attendere, diciamo, la convalida, attendere la validazione del processo elettorale, lo dice l'ordinamento, fino al pronunciamento della commissione delle elezioni, della verifica dei poteri, io sono subiudice e dice il professore Mortati, ma anche il professore Manzella, tutte le elezioni prima della convalida sono a rischio di annullamento, di invalidazione. Quindi non è un capriccio da procedura per mantenere in vita la Regione. Dopodiché se mi chiedete, ti fa piacere che la Regione duri di più? Sì. Perché mi fa piacere? Intanto portiamo a termine ulteriori obiettivi. Sto chiudendo una partita importante con RFI. Qualche settimana in più mi aiuta, ma poi fa bene anche alla comunità politica di appartenenza, perché si riprecisano i campi di lavoro, di attività. Io non nego nulla. Quello che è certo è che non sto facendo nulla a vantaggio della mia persona. Preciso due questioni. Non è vero, non è stato mai vero, non può essere vero, che io percepisca due competenze economiche. Ne percepisco una sola ed è quella del Senato. Non sto togliendo tempo né alla Regione né al Senato e che fino ad oggi il Senato mi ha fatto fare prevalentemente il Presidente della Regione. Terzo, non ho dato luogo a nessun conflitto di interessi. Cioè io non ho il che sono apparso interessato al Senato per avere l'immunità parlamentare. Come è emerso? I procedimenti che mi giuridicizzano vanno avanti, nonostante che io sia senatore, che era circolata anche la voce, che io avessi un di più di simpatia per il Senato, perché mi fornisce lo scudo giudiziario. No, io preferisco avere ragioni nel merito e non dallo scudo. Non mi sono mai tenuto a riparo dai procedimenti di accertamento. E ogni volta che vado in accertamento di diritto, ho l'impressione di uscirne approvato, più che assolto. Andiamo avanti sempre sulla pagina di primo piano del centro, nel taglio basso, la manifestazione in difesa della Costituzione del Partito Democratico a Roma. In corteo anche il PD abruzzese ed Alessandro in piazza per difendere ciò che non è discutibile. Proseguiamo. Abruzzo, come risparmiare casa? Ecco cinque modi per pagare meno tasse. E poi scoprirete tutto in questo focus. Nel taglio basso, il turismo diventa industria online a Castel di Sangro, la presentazione della piattaforma che rilancia l'Abruzzo. Nella pagina successiva, sentenza anti-stangata, le guardie mediche vincono la battaglia per le indennità. A Chieti, il primo verdetto, il giudice del lavoro, dà lo stop al recupero di migliaia di euro, il segretario della FIMG Campanelli. Ora la Regione può rispondere alla Corte dei Conti. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, mancata fusione sciopero a lama, i lavoratori incrociano le braccia il 14 giugno dalle 17 alle 22. E poi per la gestione integrata dei rifiuti, il rapino delle PD ringrazia i sindaci che hanno dato vita all'Agir. Andiamo nella pagina Abruzzo. Scaggionato dall'inchiesta Eni Damiani, nessun reato l'ambientalista si riscatta. Archiviata la posizione dell'ex direttore tecnico dell'Arta Abruzzo, era indagato per una perizia eseguita nel 2014 al centro Oli di Potenza. E possiamo andare a vedere anche questo servizio. Si chiude la vicenda del 2014, si chiude con un'archiviazione e si chiude definitivamente una brutta pagina a livello personale dopo tutti questi anni, Daviani? Sì, a livello personale, perché come ricorderete, con gran cramore anche mediatico, attraverso indiscrezioni pubblicate dal Fatto Quotidiano, si è venuto a sapere che la Procura di Potenza mi aveva indagato perché sospettava che avessi non fatto il mio dovere rispetto a una perizia. Questa cosa ha comportato un trittacarne mediatico veramente esagerato a livello nazionale, anche se ho avuto la solidarietà di tutte le associazioni ambientaliste, di tutto il mondo scientifico con cui collaboro. Oggi posso annunciare che, dopo anni, gli stessi PM che mi hanno indagato e hanno analizzato ogni angolo della vicenda, intercettazioni, eccetera, hanno chiesto l'archiviazione. Il GIP ha dato questa archiviazione con la formula più piena. Quindi le accuse erano assolutamente insussistenti e io, dato il clamore mediatico che ha avuto la notizia a suo tempo, ho voluto comunicare questa cosa per la mia onorabilità, per quella della mia famiglia e per il fatto che ho sempre lavorato nella legalità, ho fatto il mio dovere, voglio ribadire che questa cosa, anche in questa circostanza, è stata ampiamente confermata. Andiamo sulla pagina Abruzzo della città. Altri incidenti non segnalati nei laboratori e il titolo di apertura di questa pagina. Il Forum Abruzzese per l'Acqua rende noto anche un incendio piuttosto importante avvenuto nel giugno del 2016. Tutto fermo, nonostante le inadempianze si continua come se nulla fosse. La Giunta regionale non ha né approvato né adottato la carta di salvaguardia delle acque potabili sotterranee, obbligatoria per legge dal 2006. E poi andiamo a vedere il taglio basso. Il Direttore Generale della Regione spegne i timori sullo scippo all'Aquila rispetto alla riorganizzazione degli uffici regionali. Nessuno spostamento di servizi uffici a Pescara, ma ridefinizione degli ambiti delle due competenze. Torniamo adesso sul Quotidiano Il Centro. Andiamo ad aprire le pagine di Pescara. Tre episodi in un mese. Vigili picchiati. L'aggressore è già libero. Niente carcere per il parcheggiatore abusivo fermato nell'area di risulta. I sindacati chiedono di avere in adozione lo spray. E poi lo sparo in comune. Faremo subito chiarezza. Alessandrini, il sindaco, non è possibile un caso del genere in un ufficio pubblico. Teodoro, l'assessore competente, fatto grave e delicato. Questo è il suo commento. Proseguiamo. È partita la stagione balneare. Spiagge libere, sporcizia e chioschi chiusi. Il comune parte il 7 giugno con la vera e propria stagione balneare. Andiamo ancora avanti. I cantieri in città. La riviera riapre le auto. In futuro sarà pedonale. Completati in tempi record. I lavori per rifare l'asfalto su tutto il lungomare nord. Blasioli ora va studiata. Una chiusura progressiva. Traffico e proteste in centro. Nel taglio basso. Lunghe code su via di Campli rinnovata. Andiamo ancora avanti. Il PD Bacchetta di Odati. Subito i parcheggi sulla strada parco. I consiglieri DEM bocciano le proposte alternative avvenzate dall'assessore per la sosta estiva. Anche i balneatori della Confcommercio gli danno l'altola. Non rinunciamo a mille posti auto. Ancora spazio ai talenti nei giardini d'arte di via Caravaggio. E poi il giallo di Fontanelle. Donna morta davanti a casa. Il marito respinge le accuse. Continua dunque l'indagine sulla morte di Monica Gondos. 53 anni. Romena. Trovata senza vita mercoledì dal compagno che ha anche lanciato l'allarme. Ancora via Aldomoro. Scippata. Cade a terra. Anziana. Finisce in ospedale. Andiamo avanti ancora sulle pagine del centro. Pesoli si racconta intervista a scuola dei baby giornalisti. Il vice allenatore delle Pescara con gli studenti della Rossetti. Nella pagina di Montesilvano turismo e servizi. Parcheggi sulla riviera. La provincia conceda l'area dello Stella Maris. E poi nel taglio basso via Rimini all'Alba ripulito il quartiere. Sono stati rimossi rifiuti e veicoli non assicurati. Nella pagina successiva. Uffici comunali. Orari ridotti per carenza di personale. A Città Sant'Angelo. I tagli colpiscono i servizi anagrafe. E anche la biblioteca. Sportelli al pubblico con la riduzione delle aperture anche alla Marina. Nella pagina di Francavilla. Allarme furti negli stabilimenti balneari. Enormi danni fatti in quattro esercizi dai ladri. La Confcommercio dice più controlli nelle ore notturne a ridosso delle spiagge. Proseguiamo ancora nella pagina della Val Pescara. Ospedale di Penne. Rimodulati posti letto dell'area medica. Da ieri la disponibilità complessiva è di 40 ricoveri. Ancora non attivati. 15 riservati alla lungo degenza. Andiamo a vedere le pagine di Pescara sul messaggero. Strada Parco. Il PD ferma Diodati. E l'apertura dal gruppo consigliare Padovano. Un'altolà l'assessore sulla sostessiva. Il Consiglio Comunale ha già deciso. Pagnanelli, il Presidente del Consiglio. Certe proposte vanno programmate prima. Sostegno al passaggio dei bus ecologici sul corridoio verde. Andiamo ancora avanti. Circo, musica e jazz. Ma è il teatro la novità del Pescara Fest che è stato presentato nella giornata di ieri. Proseguiamo ancora. In Comune poteva scapparci il morto. Aperto un'indagine interna della Polizia Municipale sul colpo di pistola esblosso da un maresciallo lunedì a Palazzo di Città. Alessandrini e Teodoro. Incredibile che sia accaduto in un pubblico ufficio. Per fortuna senza conseguenze. Il fattaccio di Colle Orlando. L'ipotesi della dite sfociata in tragedia. Morta in villa. Il compagno rischia un'accusa di omicidio. Il PM Benigni indaga. Poi ancora. Macchina rotta. Niente cure. Proteste al Santo Spirito per quanto riguarda le spine della sanità. E nel taglio basso la Cyberdyne finanziata dalla FIRA spicca il volo e passa alla Gelfai. Proseguiamo sempre sul quotidiano Il Messaggero. Andiamo nelle pagine dell'Aquila. Uffici regionali esplode il caso Scippo. Abbiamo già visto sulla città per quanto riguarda la riorganizzazione della macrostruttura. I geni civili finirebbero nel nuovo Dipartimento di Infrastrutture e Trasporti. Il DG Rivera. Nessun trasferimento di personale o servizi. E la localizzazione dei servizi che fa la sede. Non il direttore. Le reazioni. La Lega. Depotenziamento subdolo. UGL. Vergogna. De Matteis. Una furbata. Queste sono le critiche alla decisione. E poi le spine in comune. Falso. L'avanzo in bilancio di 54,4 milioni. Masciocco Mancini e Lavicini preoccupati per la sciatteria e l'eventuale gestione allegra dell'attuale amministrazione. Andiamo adesso nella pagina successiva. Ama e CTGS. Si alza il tono dello scontro. I sindacati hanno proclamato lo sciopero per il prossimo 14 giugno di saggi per chi userà i mezzi pubblici. Andiamo nella pagina di Avezzano Sulmona. Nuovo blitz nello studio di Gallese. Inchiesta sui certificati medici falsi. Si cercano riscontri. La guardia di finanza a casa del primario di igiene mentale. Spuntano altre rivelazioni su pensioni di invalidità a persone che non ne avevano diritto. Sono almeno 20 i casi sospetti. Andiamo a vedere anche sul centro le pagine che riguardano l'Aquila. Andiamo a recuperarle subito. Eccola qui la pagina aquilana. Capoluogo e polemiche. La CGL lancia l'allarme. Scippo di uffici regionali. Trasatti e Marrelli. A pescare a strutture dell'assessorato al bilancio. D'Alfonso risponde che non è vero. Il dirigente Rivera. Nessun servizio verrà trasferito. Ma chiaramente ci sono tante polemiche su questa decisione. Poi Avezzano. Aule sicure per 400 bimbi e coi fondi. Le cipe assegnato al comune oltre milioni. Destinato ai lavori in diverse scuole. Andiamo ancora avanti sul messaggero. Andiamo ad aprire la pagina di Chieti. Piazza Umberto I si intitoli alla Repubblica. Ed è scontro fra il sindaco di Chieti. Umberto Di Primio e Lampi. Andiamo a vedere anche il taglio basso. Rappresentanze studentesche. Ecco tutte le priorità dopo le elezioni all'adannunzio. Le relazioni degli esponenti. L'elenco degli eletti alla consulta. Nella pagina successiva. Discarica bonificata dopo 25 anni. Via Lota Comune fuori dalla procedura di infrazione europea. I ritardi dovuti alla presenza di idrocarburi. Ma è tutto risolto. Il sito fu usato per affrontare la crisi dei rifiuti nel 1993. Resta la grana vallone maltempo. Incognita falde acquifere nel taglio basso. FCA condizioni di lavoro peggiorate. Secondo una ricerca della FIOM. Possiamo andare a vedere insieme il servizio che riguarda il Worker Days della FIOM. Mentre Sergio Marchionne in Piemonte a Balocco presenta il piano industriale FCA valido fino al 2022, le tute blu della CGL si mobilitano per il Worker's Day. A Santa Maria in Baro i delegati di Abruzzo e Molise fanno il punto sul futuro del gruppo con una tavola rotonda dalla quale sono emersi in anteprima i dati relativi all'inchiesta condotta negli stabilimenti FCA e CNHI d'Italia in merito all'organizzazione del lavoro e alle condizioni di lavoro. Il ricercatore Davide Bubbico dell'Università di Salerno fa gli esempi di Sevel in Val di Sangro, Magneti Marelli di Sulmona, FCA di Termoli. Registriamo per l'intero nostro campione, che è un campione molto molto alto, significativo, una situazione in cui il 60% dei lavoratori ha indicato una situazione di peggioramento. Se andiamo a vedere come si distribuisce questa risposta solo con riferimento agli stabilimenti che lei prima ha citato, questa percentuale sale sensibilmente e in alcuni casi anche prossima all'80%. Non a caso questi tre stabilimenti insieme ad altri sono quelli che non hanno sofferto o comunque in maniera minore fatta eccezione per Sevel, evidentemente in situazioni di ricorso alla cassa integrazione o altro, quindi hanno avuto dei volumi produttivi molto elevati, la produttività è aumentata, abbiamo avuto modifiche delle turnazioni e quindi si tratta che nell'insieme di dove crescono i volumi produttivi, cresce l'orario di lavoro in termini di maggiori turni o di straordinario, la situazione tende ad essere giudicata più negativamente perché la produttività si associa anche a condizioni fisiche molto impegnative considerando che la platea di questi stabilimenti spesso non è composta di giovani lavoratori ma ormai anche di lavoratori con più di 60 anni. La pagina di Chieti sul centro, in apertura, centro storico vietato ai veicoli multiannullati, il caso fa discutere i provvedimenti per le violazioni in via dell'Ollis ma è ricorso di una donna che colleziona sanzioni, non preoccupa il comune. Poi ruba un portatile a megalò, coppia arrestata. E ancora andiamo avanti nella pagina successiva, vasto e allarme nel centro storico, gare di moto tra i tavolini di bar e pub Santa Maria Maggiore, rombi di motori frenate e impennate anche di fianco ai passeggini, il sindaco presto le sbarre all'ingresso. E poi notizie per la Onewell, la Tess e i russi ufficializzano l'offerta per il sito della Onewell. Andiamo ancora avanti ad Ortona, nuove tombe nei cimiteri, ripartono i progetti nella prossima assemblia civica, l'appalto per la struttura di Villa Caldari. Andiamo nella pagina successiva e apriamo quelle di Teramo, il progetto del Masterplan via al bando per il recupero dell'ex ospedale psichiatrico, lo storico edificio di Porta Melatina diventerà la sede universitaria del Dams. Andiamo a vedere anche sul Messaggero le pagine di Teramo, ecco qui il titolo che apre la pagina, altra donna aggredita di notte nel centro storico, probabilmente si tratta dello stesso uomo che molestò l'altra vittima in via del Baluardo. E poi il Gran Sasso, l'acqua non è ancora sicura, abbiamo già visto in precedenza sulla città nella pagina successiva, concerto con le unità antiterrorismo, novità in Piazza Buozia Giulianova dove si svolge il Festival Internazionale delle Bande. Andiamo sulla città per vedere le altre notizie dal Teramano. Masterplan, il progetto del manicomio parte con un click pubblicato in diretta da D'Alfonso e D'Amico, il bando di gara da 30 milioni per il recupero della struttura. Il rettore dell'Università di Teramo, con questo atto parte il risanamento e il rilancio di tutto il centro storico del capologo Aprutino. Andiamo avanti, aggredita da un maniaco in centro storico, giovane donna avvicinata nella notte in via dei Mille da un uomo che le ha mostrato le parti intime. Proseguiamo con i trasporti. Appello sindacale per le aree interne, la CGL di Teramo scrive una lettera a istituzioni e candidati a sindaco per garantire la mobilità di tutti i cittadini. E poi le amministrative, in caso di ballottaggio meglio non accordarsi. Per Sandro Mariani non è più possibile dare un'indicazione di voto. Il popolo non si fa indirizzare. I pronostici non ne faccio, ma credo che ci saranno grandi sorprese, sia in positivo che in negativo. Andiamo ancora con la politica. Cacchiodi, verso il fronte repubblicano di Calenda, l'ex governatore risponde su Twitter all'appello dell'ex ministro allo sviluppo economico. E poi i progetti a 5 Stelle, biciclettata per le vie della città e rilancio del planetario di Colle Urania, appuntamento alle 9.45 con una pedalata organizzata dal Movimento 5 Stelle. In provincia, rimpasto nella giunta di Vincenzo Di Marco, entrano in squadra Massimiliano di Lodovico e Sara Piccone per quanto riguarda Castellalto. Movida, i giovani chiedono più flessibilità a Tortoreto. E ancora rivolta contro la Resine in via Matteotti. Siamo a Giulianova. Nella pagina successiva, strisce blu, multe pazze per i disabili a Roseto. Torniamo adesso sul quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere rapidamente anche le pagine di Sport. In Serie B le trattative dei Biancazzurri. Pescara c'è anche Asensio nella trattativa con il Genoa. L'attaccante spagnolo potrebbe seguire in prote. Fiamozzi in riva all'Adriatico. E Reica ha deciso di riscattare Zuparici. Biancazzurri incasseranno 800 mila euro. Queste sono le notizie di mercato. E poi l'intervista. Il saluto di Coda. Ringrazio i pescaresi per l'affetto. Il 33enne difensore toscano ha il contratto in scadenza. Non ho sentito nessuno della società. Non so nulla del mio futuro. Ma comunque vada. Conserverò un bel ricordo della città. Indimenticabile la festa a promozione con 100 mila tifosi. Andiamo a vedere la Serie C. Con la spanchina per il Teramo. Modica verso Messina. Ma il tecnico darà una risposta al patron Campitelli. In mattinata passerella allo stadio dei protagonisti della promozione C2 del 94. Sannano ricordati il dottor Bonolis e il tifoso Teschione. Questo per quanto riguarda il Teramo. E poi i dilettanti. Bisegna dice sì. Resta l'Avezzano. Il Chieti su Ganci. L'Agli a San Buceto. Completiamo la lettura delle pagine di sport sul centro. Calcio a 5 finale Scudetti. Il patron Barbarossa. Voglio lo Scudetto per fare la storia. Lunedì sera a Pescara. La gara 3 contro la Luparenza. Deve essere una festa dello sport all'insegna del Fair Play. E poi il beach soccer lavastese cambia registro. Il tecnico Sabalino con i nuovi Meyer e Morciano. Puntiamo la salvezza tranquilla in Serie A. Nella pagina successiva il roseto basket. E gli oreoi del 1998. La promozione in A2 tra Genio Follia e Ricordi. Andiamo sul messaggero per vedere l'Abruzzo Sport. Il sogno del sindaco chiudere a Pescara. Queste le parole di Sansovini. Che sta per compiere 38 anni e ha un altro anno di contratto. Il merito della salvezza è tutto di pillon. Ma questa squadra aveva più potenzialità di quelle espresse. Secondo Sansovini. Poi per il futsal. L'acqua e sapone a Pescara per le finali. Sarà uno spettacolo. E poi la MotoGP. Annone vola al Mugello e lascia la Suzuki. L'asso di vasto primo nelle libere. Poi l'annuncio della separazione dal team. Mi rimetto in gioco con tutti. Andiamo avanti. Nella pagina successiva. Teramo. D'Angelo per la panchina. Tramontata. La trattativa commodica che voleva un maxi staff. Ora Campitelli sonda l'ex trainer della Casertana. Che è di Pescara. Per la Serie D. L'Avezzano, Blinda, Menna e Cerone. Ancora l'Aquila. Ius contatta un tecnico d'esperienza. Per quanto riguarda il basket di A2. A Roseto nasce l'idea di un museo al Palasport. Nel taglio basso. Invece Chieti obiettivo Serie D per il calcio di eccellenza. Per l'attacco C, ganci e per il basket. Il nuovo basket Aquilano. Le finali nazionali under 14. Andiamo a vedere anche la pagina di sport della città. Teramo. Addio Modica. Virata su D'Angelo. Anche qui la notizia di giornata per quanto riguarda la panchina del Teramo. L'allenatore pescarese potrebbe essere il prescelto da Campitelli dopo il no del tecnico siciliano. Da Rimini alla Casertana. Iniziato nelle giovanili del Rimini dopo le esperienze da giocatore. Difensore centrale a Chieti a metà anni 90. Compagno di squadra di Sandro Federico. Attuale DS. Bianco Rosso. Una vera bestia nera. Il Teramo non è mai riuscito a sconfiggere una sua squadra per la dirigenza. E lui l'uomo su cui puntare. Dunque sembra tutto convergere verso Luca D'Angelo. Nel taglio basso, sempre per il calcio, al Bonolis. I protagonisti del campionato 93-94. È tutto per quanto riguarda questa edizione di Mattino 6. Io vi ringrazio per averci seguito. La nostra rassegna stampa torna lunedì alle ore 8. Per quanto riguarda la nostra informazione oggi il TG6 come sempre alle 14, alle 19 e alle 23. Vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera alle ore 20 con l'appello del candidato la trasmissione che abbiamo dedicato alle elezioni amministrative e al rinnovo del Consiglio Comunale della Carica di Sindaco al Comune di Teramo. Questa sera ci sarà il candidato del Movimento 5 Stelle, Rocchetti. È davvero tutto. Grazie ancora. Buon fine settimana e buona giornata. Grazie a tutti.